Un bando da 1,5 milioni di euro rivolto ai comuni per potenziare la rete di piste ciclabili e favorire le azioni di mobilità sostenibile. Lo ha approvato la Giunta regionale nella sua ultima seduta. Si tratta di un provvedimento funzionale a questa fase di emergenza Covid-19. Le forme di mobilità alternativa, come le ciclovie, da una parte contribuiscono ad alleggerire la pressione dei mezzi pubblici e privati, dall'altra permettono a chi le utilizza di potersi muovere in condizioni di piena sicurezza. Tutto questo si sposa molto bene con quello che il governo ha previsto nel suo decreto, dove ci sono contributi per l'acquisto di biciclette, di biciclette anche elettriche e di mezzi comunque che consentano di potersi spostare con una modalità ambientalmente sostenibile e in grado di non congestionare le realtà urbane e soprattutto importanti anche in un momento come questo dove i mezzi pubblici sono comunque contingentati per quanto riguarda le loro capacità di trasporto. Il bando finanzia anche la realizzazione di corsie preferenziali di bus e taxi e azioni per conciliare il traffico veicolare a quello dei mezzi alternativi. Grazie a tutti.